Mister, che stasera i tuoi ragazzi abbiano dato tutto, è evidente, ma è altrettanto evidente che c'è stato qualcosa che non andava in questa partita, c'è un episodio che l'ha decisa. Ma mi sembra chiarissimo l'episodio, è stato un episodio chiave, che purtroppo l'arbitro ha deciso di non indirizzare dalla nostra parte. È un peccato perché ultimamente stanno capitando un po' troppi episodi dalla nostra parte. A Monza con Magna in espulsione dopo 20 minuti, a mio avviso, ingiusta. Stasera un difensore che col braccio aperto non so per quale motivo non si è stato chiamato il rigore, quindi faccio veramente fatica. Ma è chiaro, io gioco come ho ripetuto l'altra volta, non mi piace parlare di episodio, ma quando ne sono tre, quattro, poi dopo, uno non ce la fa più. Anche perché poi questa squadra che da il 110% gioca alla pari contro la Juventus, il morale chiaramente è dissente di queste persone. Ma è chiaro, a me dispiace principalmente per i ragazzi perché danno tutto, danno il cuore, danno l'anima. Però poi dopo è chiaro che quando capitano questi episodi, guarda caso, sempre contro di noi. C'è questa rabbia dentro che è da portare tutta domenica contro... Ma adesso bisogna ricaricare energie mentali, fisiche, tutto, fare una grandissima gara domenica. Perché non meritiamo questa classifica e ripeto, noi ce la faremo.